Io per esempio riterei pedagogico e utile, a proposito di questo tema, che ci fosse un meccanismo di solidarietà. A questo punto, chi è meno colpito e chi ha di più, deve dar qualcosa. Perché noi abbiamo bisogno di stimolare il fatto di sentirci fuori dall'anarchia. E perbaco, ci sono tanti ceti e tanti redditi che non ci hanno perso. Alcuni ci hanno guadagnato molto. Ma vogliamo trovare un modo perché, dicono, mentre i bar chiudono, il piccolo commercio nei guai, il settore dello spettacolo... Perché i soldi di chi li ha mantenuti sono in banca, sono liquidità nei conti correnti. Lei sta pensando a una patrimoniale? No, un contributo di solidarietà. Tutte le volte che si parla di tirar fuori qualcosa diventa patrimoniale. E qui, ragazzi, io non dico... È chiaro che deve pensarci lo Stato. Adesso mettono ancora, dopo 8 miliardi, ne mettono altre 4. Non basteranno. Bisogna mirarli bene. E però, perbaco, tirarne su qualche altro con un meccanismo di solidarietà non direbbe qualcosa a sto Paese. Passimo Giannini, tra l'altro invece sono gli statali che... Fino...